Perché un vero portiere conosce tutti i segreti del proprio condominio. Il caffè è tutto offerto da noi, eh? Sì, ma noi ci siamo fatti tardi ancora prima di cominciare. Lupa, vieni qua! Lupa! E pinnale! Lupa! Abort! Lupa! Aveva ragione la tua madre che non voleva gente strana e invece a me mi è toccata questa polata! Io? Ucraina! A povacca Ucraina, eh? Non ci sarebbe da pagare i ragazzi o li pagano? Pagalo tu. E al momento mi trovo a scuola. Mi scuola ma... Ma se io morti, ti ho sputato il selvaggio. E pensaci bene, perché potrebbe essere un'esperienza. Io la provo tutti i giorni. Questo si chiama rastrello. E' tutto tutto, eh? La può orare? No, giocare! Andiamo, andiamo che stiamo in ritardo. Vai, vai! La figura è bella. E abbiamo fatto 300 fotografi! Sono tremenda, lo so. Chi mi incontra ha proprio uno shock. Mille luna. Mille luna. C'ha una coppagna d'annura. Sotto a quella luce arciente d'amore. Solo qua nascevo sola... Squalone carissimo. Carissimo cazzo, sono due euro che ti aspetta. Carissimo cazzo, è anche! Sotto barato!